Il signor Ministro della Difesa, Senatrice Roberta Pinotti, accompagnata dal Capo di Stato Maggiore della Difesa e dal Capo di Stato Maggiore della Marina, fa ingresso sul luogo della cerimonia. La banda musicale, la compagnia d'onore e le rappresentanze della Marina Militare fanno ingresso in piazzale con manovra di formazione. Grazie a tutti. 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 La bandiera della Marina Militare e delle Forze Navali fa ingresso sul luogo della cerimonia. Schiaramento, onori alla bandiera. Grazie a tutti. 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 Acqua e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Onori a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Onori a tutti. Grazie a tutti. Onori a tutti. e a tutti. schieramento. riposo. e tutti. a tutti. Grazie a tutti.